Ciao Ne vuoi uno? Ti ho riportato questo Lo so, me l'hai rubato No, l'ho dimenticato Ti piace il rosso? No, l'ho preso perché costava un euro Però sei stato onesto riportarmelo Ti meriti un premio, dammi la mano Ti piace il rosso? Hai... 23 anni Si, in realtà 23 ad agosto Sei molto amato Non sei molto empatico Sai che vuol dire? Si, si si Guarda che non mi piacciono le bugie Non è una bugia Ok Tutto qua E ti sembra poco? Per un accendino da un euro mi sembra abbastanza Se vuoi sapere di più Tu vivi qua? Dove c'è una festa io vado In pratica sono pagato per divertirmi Tu sei di qui? Si, qua vicino Ma che si fa la sera qua vicino? Ehm... Cioè... Cioè hai 23 anni e non esci la sera? Si, si È che di solito però vado a Pescara Ah, a Pescara vai a ballare? Si anche Ah, e quante ragazze ti porti in una sera quando vai? Ehm... Dipende, dipende Secondo me almeno tre Ti posso fare una domanda? Ehm... Ma... Perché oggi mi hai mandato al posto durante la festa? Perché era il complanno di tuo cugino, mica il tuo Poco empatico e anche poco sveglio, eh? Tieni Tieni È il tuo indirizzo? No, io abito qua Domani sono a Tortoreto Hai presente? Sì, dove c'è l'acqua park Esatto, lì di fronte Sì, a Tortoreto c'è solo l'acqua park E quindi? Eh, mi chiami per la festa di compleanno tua Oppure se ti serve un lavoro, così puoi farmi da assistente quando vuoi Che ridi? Eh, che prima mi eravo dello stupido e adesso mi offri un lavoro Eh, magari mi serve un assistente stupido Oh, sto scherzando E comunque ce l'ho già un lavoro Meglio così Per stare con i bambini, per lavorare con me bisogna Essere empatici Comunque non mi sembrano trasferelli Mi devo assicurare che i bambini lo mettono in mano alla mamma E quello è tuo invece? Mmh, sì Perché? No, così Io adesso devo andare Ciao Ciao Ciao